...e quello che siamo noi dentro ci dà la possibilità di fare un concetto, ci troviamo davanti sempre a dei vivi ed è la consapevolezza ovviamente del nostro essere che ci porta verso il destino che noi vogliamo costruirci sicuramente non è tutto predestino Sì, però la grande capacità di passare con la scultura, la pittura e con la stessa lavora non è... Sì, però non ci provo, come si spera... Riuscire a fare bene tutti e due i lavori più recenti, no? Sì, quelli esposti qui forse è una delle tele Quindi perlomeno che ho fatto incominciare oggi insieme a queste tre tele sono tutte abbastanza nuove di quest'anno Poi, vabbè, le sculture, sì, l'anno scorso ci portavano, però sicuramente le tele sono le cose più nuove Anche se poi rimango sempre un po' qui, insomma, perché anche perché poi nella tela vado sempre a vedere quello che è lo studio del colore Poi, vabbè, le sculture, sì, l'anno scorso ci portavano, però sicuramente si va a studiare il colore, quando si va a porre Più, vabbè, il futureso Grazie.